Un abruzzese che si farà onore a Las Vegas, ai campionati del mondo di arti marziali miste. Parliamo di Simone Cancelli che arriva da Vacri, piccolo centro in provincia di Chieti. Emozionato a rappresentare l'Italia in questi mondiali? Sì, abbastanza emozionato e soprattutto contento di questa occasione che fortunatamente sono riuscito a cogliere. Il tutto si svolgerà a Las Vegas, come diceva lei. Partiremo il 3 luglio e torneremo l'11. Speriamo di riportare a casa un buon risultato. Angelo Poppeo è l'istruttore di Simone Cancelli. Vogliamo innanzitutto spiegare che cosa sono queste arti marziali miste? Sì, l'arte marziali miste è una fusione di più stili che comprendono la box occidentale, la Thai box, Brazilian Jiu Jitsu e lotta libera. Diciamo che può essere riassunto così, una fusione di più stili. A Las Vegas vogliamo spiegare cosa accadrà, quanti incontri ci saranno, come funzionerà anche un po' il regolamento? Sì, sarà una competizione e eliminazione diretta. Quindi diciamo che non ci sono margini di errore. Possiamo essere sui 5-6 incontri fino ad arrivare in finale, diciamo la media. Sperando, e ce la metteremo tutta, di non uscire prima, di non uscire ai primissimi round. Possiamo dire però, Angelo, che è già un successo, come direbbe qualcuno, arrivare a disputare i mondiali a Las Vegas. È un'enorme soddisfazione perché c'è una selezione molto rigida e devi praticamente vincere le varie competizioni per poi candidarti. Quindi sì, è un'enorme soddisfazione.